Ammi il teatro e la danza e vuoi raccontare la tua esperienza da spettatore? Per raccontare uno spettacolo bastano le parole scritte? Studio 28 TV e Rete Critica dal 1 giugno al 30 ottobre ti fanno diventare un critico. Partecipa al premio Critica in Movimento e prova a vincere il premio da 1000 euro. È facile! Scegli uno spettacolo, un festival, una rassegna di danza o di teatro. Divi uno spettacolo! Prepara un video in cui commenti lo spettacolo. Non tanti limiti, libera linguaggio, espressività, creatività. Carica il video su YouTube, Vimeo o qualunque altra piattaforma. Copia e colla il link sulla pagina Facebook Critica in Movimento. Il video più votato dal pubblico Facebook e dalla giuria critica vince 1000 euro. Leggi il regolamento!